Grazie a tutti. Ha curato lo spazio dei bambini presenti e assicurato sia la mattina che la sera la buona riuscire. Ringraziamo il papà San Cuorosio. E poi dentro ci mettiamo dentro. Ringraziamo il circolo con il abito per la quale. A questo punto... Ok, devo fare prima. La prima cosa. Grazie a tutti.